bene incominciamo a selezionare questa parte dei doni di benvenuto verdeggiamonte quindi andiamo direttamente a vivaio verdeggiante ovviamente e andiamo a scoprire questi questi doni che ci aspettano qui in questo punto preciso della mappa eccolo uno qui già posizionato ci prendere qualche anno e il frattempo ci sono anche i i rompiscatole ovviamente ci sono sempre abbiamo preso questo qua ora ce l'abbiamo un altro mi pare qua dietro se non sbaglio eccolo qui ok 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 ragazzi lo so uno che mi devo curare non sono facile queste imprese, io lo so benissimo ok comunque uno l'abbiamo preso l'altro era mi pare se non sbaglio qua dentro oh 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 Comunque Era qua dentro Se non sbaglio Lo devo vedere Eccolo qua Fatto ragazzi In questa peripezia Ovviamente abbiamo fatto Anche 5 kg E ragazzi E' stato un piacere Andare a mostrarvi Questa missione Ciao Alla prossima